La testimonianza dei santi medici e martiri Cosma e Damiano è per la nostra città di Bitonto e non solo, ma lo dico anche per i tanti pellegrini, i devoti che si recano qui in santuario per onorarli, una testimonianza forte e attuale ancora oggi. Non si spiegherebbe diversamente questo culto che quasi rimane inalterato per l'affluenza dei pellegrini, per i tanti devoti che accorrono davanti alle immagini dei santi. E questo messaggio è anzitutto un messaggio di fede, non lo dobbiamo dimenticare, perché i santi medici e martiri Cosma e Damiano avevano un legame profondo con il Signore Gesù. Non si spiegherebbe altrimenti anche il loro martirio. I martiri sono coloro che hanno amato più la grazia che la loro vita umana. Hanno messo a disposizione tutto se stessi per il Vangelo, fino al punto di farsi anche uccidere a causa di Gesù, a causa del nome di Gesù. Quindi un primo messaggio mi sembra che inerisca soprattutto la fede. E questa è una domanda anche per noi, che ci rechiamo magari in pellegrinaggio, visitiamo il santuario, ci sentiamo devoti di Cosma e Damiano. Qual è la mia fede? Qual è il mio legame con il Signore? Cosa mi può portare a coltivare un rapporto più genuino, più fresco, più continuativo anche nel tempo? Sappiamo come la domenica per il cristiano è davvero il cuore, il centro, perché facciamo esperienza di comunità, ascoltiamo la parola, possiamo cibarci del corpo e del sangue di Cristo. Quindi anzitutto la loro relazione con il Signore, la loro vita di fede che interroga noi, le nostre comunità. E poi mi sembra che il loro messaggio sia molto molto attuale, perché quando penso personalmente alla vita di questi due santi, anzitutto mi entusiasma che sono due, che siano due fratelli, due fratelli laici, non erano né preti né vescovi né monaci, due fratelli laici che di professione facevano i medici e si sono santificati come? Facendo bene i medici, addirittura professando gratuitamente la loro attività lavorativa, soprattutto con uno sguardo di predilezione verso le persone più fragili e più deboli. E un pensiero particolare va a tutti gli ammalati, quelli della nostra città, le tante persone per cui preghiamo in questi giorni, perché sentiamo che la preghiera ci unisce, perché sentiamo che la peggior povertà che vive un ammalato, al di là della malattia e dentro la malattia è la solitudine. E allora ecco che il messaggio dei santi è un messaggio di fede, ma anche un messaggio di carità. È come se i santi chiedessero a noi, noi siamo stati vicini a tanti, continuiamo a farci vicini a tanti, però tocca anche a voi andare lì dove le persone sperimentano la pochezza della loro vita, la fragilità della loro vita, soprattutto gli ammalati, che vivono un particolare momento anche di solitudine. Ecco, cerchiamo anche, onorando i santi, di farci vicini soprattutto agli ammalati. E poi un'ultima parola, penso sia importante, perché quest'anno la nostra diocesi sta pregando, si sta preparando a un evento molto particolare. Sta pregando per quell'incontro che Papa Francesco terrà a febbraio, il prossimo 23 febbraio, proprio a Bari, nella città di San Nicola, incontrando delle delegazioni dei Vescovi dei 19 paesi bagnati dal mar Mediterraneo. Infatti lo slogan, che ha accompagnato anche la nostra preghiera durante la novena, che accompagnerà questo incontro importante, è Mediterraneo, frontiera di pace, di speranza. Ecco, noi vogliamo affidare a questi due santi che provenivano dalla Siria, e come non pregare in questi giorni per il popolo kurdo, che nel nord-est della Siria è così, fatto fuori, è sacrificato da logiche perverse, far sì che questa preghiera possa raggiungere anche questo incontro del Papa del prossimo febbraio, perché il Mediterraneo sia davvero non un cimitero liquido, ma sia un luogo dove poter incontrare tra di loro popoli, culture e religioni diverse. Abbiamo bisogno oggi più che mai di una società dell'incontro, non certo dello scontro. Cosma e Damiano intercedano perché nel piccolo, nelle nostre famiglie, nei nostri luoghi di lavoro, lì dove stiamo, possiamo promuovere questa logica di incontro, mai di scontro, e che il bene possa crescere. Ciascuno di noi, dentro di sé, ha del bene che può e deve far crescere. Attorno a sé questo bene va fatto crescere. Nella nostra città, lì dove siamo, il bene va fatto crescere. E penso che i Santi aspettino da ciascuno di noi, da tutti quanti noi insieme, un salto di qualità che tante volte, purtroppo, davanti ai nostri occhi è difficile vedere, ma i Santi ci insegnano anche ad avere tanta, tanta fiducia. Dand Autore dei sottotitoli e drumsa di QTSS Grazie a tutti.